E bello a tutti ragazzi, ben arrivati in questo nuovo video, io sono il vostro MrBistecca Ed oggi i streamerci li troviamo qua, insieme su Fortnite Faccio una breve parte di introduzione prima di partire con il video Ragazzi, in questo periodo, in questi ultimi giorni avrete visto Che non ho caricato molti video, ve ne ho già caricato uno oggi In mattinata e avrete anche questo Se riesco ve ne porto o un altro o altri due ragazzi Perché voglio un pochino rimettermi in pari Visto che in questi giorni sono stato un po' assente Perché ragazzi lo sentite, ho un mal di gola pazzesco, ho avuto anche un po' la febbre Quindi ho preferito evitare di fare video bruttissimi E aspettare un attimo di stare un pochino meglio Quindi, ragazzi, vi lascio a questo secondo video di oggi di Fortnite E mori, e mori, e no mi sa che qui ci si muore noi, porca puttana Stiamo attenti, stiamo attenti, stiamo attenti, stiamo attenti Intanto prendiamo questa mitraglietta verde Scomparso Qua sento una cassa, ragazzi, prendiamola subito Buono lo scudone, però non ci danno le bende Non so come cazzo ci si possa curare Siamo veramente senza di tutto Eh, non è facile Qui mi sa che ancora non sono stati Oh, finalmente la balestrona, ragazzi Così almeno la proviamo insieme Dai, 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 buono Eh, gamma Beccato uno, beccato Beccato, bene Allora, spacchiamo da qua Ok, 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 ok Stiamo attenti, non abbiamo neanche il pompa Dai, 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 e mori Dai Ok Buono, buono, almeno ci facciamo anche la sfida con le mitragliette di oggi Allora, qui c'è stato qualcuno da poco Perché hanno costruito da poco Eccolo, 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 eccolo Non ci facciamo vedere, ragazzi, che con la mitraglietta è tosta da lontano, eh Dai, ok Ok Eccolo, eccolo, vai, 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 vai Madonna quanto smira è questa arma di merda Madonna, madonna Uh, c'è un altro, c'è un altro, c'è un altro Boni, 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 boni Eh, l'ha ammazzato lui, vaffanculo Vai, vai, eccolo, 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 eccolo E andiamo Comunque, c'è proprio una balistica strana la balessa Spara tutto a modo suo Totalmente diversa rispetto ad un cecchino Ma, c'abbiamo qualcuno dietro? E' come no, è certo ce l'abbiamo Mi sembra di sentire i passi, un po' lontani, però mi sembra di sentirli Affanculo a lui Ora li faccio vedere, ragazzi Con il cazzo ci trova Perché non ha saltato? Vabbè Riproviamo Ecco, lo sai, lo sapevo, andava di lì Lo sapevo, madonna voleva proprio lui Tac Ni capino E via Non ci posso redere, non ci posso redere Sempre da dietro, tutti da dietro ci devono venire, oh Non è possibile Eccolo lì sopra, abbastanza Lui proprio ci stava seguendo, maledetto infame Ovvieni, bello Ovvieni, bello Ciao ciao, ciao ciao Du scarrettare E via C'ha anche delle armi di merda Sto poraccio Ma guardate che schifo, ragazzi No No, eh no E vabbè, ma tutti da dietro Ma non è possibile Eccolo Vaffanculo, ragazzi Tutti, oh, tutti da dietro Puoi morire, grazie Grazie Molto gentile Bene, bene C'è un altro medit Importante C'è un trampolo Buono, buono, buono il trampolo Buono E nel frattempo Qua davanti a noi C'è un bel fight Tra Due o più persone, ragazzi Non si sa Comunque, prima cosa che dobbiamo fare È arrivare in safe E curarci Che Siamo abbastanza In crisi Ok Medit ce lo siamo dati E Proviamo a andare a vedere Un pochino Che sta succedendo qua Via Allora Eccolo lì Vai Perfetto Madonna quanta roba Madonna quanta roba Ragazzi Abbiamo fatto la scorta Allora Lì davanti c'è uno E lo vedo Sì Sì Eccolo lì Eccolo lì Potremmo aspettare Che metta il capino fuori E tiragli con la balestra Però Non lo so, ragazzi Non lo so Sinceramente La situazione è un po' complicata Se no Potremmo con la minigun Andare a spaccargli la base Che È È attaccata soltanto Da qui Ponticino lì Ma sì Vai, vai Tiriamola lì sotto Vediamo, eh Eccolo E Ha capito Li stiamo sparando da qua Ha capito Che li stiamo sparando da qua È dura Vediamoci dalle palle Andiamo Da qualche altra Andiamo in safe Intanto Sai che qui c'è qualcuno Eh Infatti Guarda là Sta arrazzando tutto Prendiamo subito il pompa alla mano E andiamo lì a cazzatura addosso Vai Scala Scala Eccolo 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 Dai Dai No No Porca puttana Porca puttana Ma vaffanculo Uff 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 Buono 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 Ci abbiamo Uno là davanti a noi Che dovrebbe più o meno fightare con un altro Che è verso quell'albero Eh In fondo Quello più chiaro E Poi non capisco se c'è uno là sopra E Allora Li so sicuramente in due Perché si stanno sparando Lì c'è uno Non so se quello là giù Questo ammirandore ragazzi Sta fightando Oppure no Perché Non so se c'è uno Sul fortino Che abbiamo noi davanti O Se Ce n'è un altro Che sta fightando Con quello lì Nel casottino di mattoni Vabbè Aspettiamo un attimo Aspettiamo la situazione Diventi un pochino più tranquilla Allora questi stanno bombardando male Dobbiamo aspettare Che uno di due O lui O quell'altro Muoia Perché così magari Sono tutti mezzi morti Mezzi feriti Ecco Ora 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 Buono Infatti abbiamo fatto bene Abbiamo fatto bene E Dove cazzo sono Questi altri due adesso Allora O c'è uno lì Ma non lo vedo E E poi c'è quello Del fortino di mattoni Aspettiamo un attimo Per ora Non ci conviene muoverci Abbiamo ancora 25 secondi Per stare qui Belli tranquilli E Aspettare Particolare la situazione Particolare Eccolo Eccolo lì Allora lui è sempre là sopra Con la balestra Non ci si arriva a prenderlo Forse sì Uuuu Uuuu Raga oddio Oddio raga oddio Vabbè basta È la fine È la fine Sono già contento così Allora E Cazzo La 6 arriva Andiamo E facciamoci un fortino Andiamo E facciamoci un fortino Veloce No 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 E ci ammazza Ci ammazza Ci ammazza sicuro Ci ammazza Ma vaffanculo Cazzo Grazie a tutti.